Buon inizio di giornata a tutti voi dalla redazione, ben trovati al primo appuntamento con l'informazione Del mattino cominciamo parlando di scuola e dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in programma il 14 settembre E' stato varato il calendario delle lezioni con tutte le interruzioni e le vacanze, il dettaglio nel servizio di Anna Maria Di Matteo Via libera della giunta regionale al calendario scolastico 2020-2021 Il suono della prima campanella come annunciato dalla ministra dell'istruzione Lucia Zolina il 14 settembre Si tornerà in classe dunque in presenza nel rispetto delle linee guida Covid e seguendo gli ulteriori sviluppi che giungeranno a fine agosto Anche in base all'andamento della curva dei contagi La chiusura è stata fissata per il 5 giugno 2021 Lezioni sospese 2 novembre, 7 dicembre, Ponte dell'Immacolata E dal 23 dicembre al 5 gennaio per le feste natalizie Scuole chiuse il 17 febbraio, mercoledì delle ceneri E dal 1 al 6 aprile per il periodo pasquale 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e la festa del Santo Patrono Il 31 ottobre, giornata della memoria, ricordo dei 27 bambini e della maestra morti nel crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia Nel terremoto del 2002 Le scuole resteranno aperte ma sarà una giornata dedicata ai temi che riguardano la sicurezza scolastica Le scuole dell'infanzia, in accordo con i singoli comuni, possono scegliere le date di inizio e termine delle lezioni Fermo restando le disposizioni vigenti Il calendario è stato condiviso con i sindacati di categoria, con l'ufficio scolastico regionale Con i presidenti delle due province e con l'Anci Intanto i dirigenti scolastici sono al lavoro per organizzare le aule nel rispetto del distanziamento sociale Come previsto dalle norme contro il contagio da coronavirus, una corsa contro il tempo Per arrivare al 14 settembre con le classi pronte ad accogliere in sicurezza studenti e insegnanti Nessuna novità per quanto riguarda l'aggiornamento dei pazienti Covid-19 I tamponi processati nelle ultime ore, 102, hanno dato tutti esito negativo Il numero complessivo dei positivi attualmente trattati resta dunque fermo a 33 Cambiamo argomento, si intitola Il silenzio non è mai silenzio oltre l'Alzheimer Il libro della psicologa Carla Ciamarra Il volume è stato presentato alla Domus Area di Bagnoli del Trigno L'autrice ha deciso di devolvere alla ricerca sulla malattia i proventi derivanti dalle vendite Il servizio di Giuseppe Carriera Si intitola Il silenzio non è mai silenzio oltre l'Alzheimer Ed è il libro scritto dalla psicologa Carla Ciamarra Come testimone e interpreta del percorso di malattia che sta affrontando con la madre Un percorso che si snoda tra il racconto in prima persona In cui l'autrice scrive come se a parlare fosse proprio la madre malata E le testimonianze di tanti attori del mondo legato all'Alzheimer Dalla ricerca all'assistenza, esperti e operatori hanno riportato dunque le loro testimonianze Il libro, che scorre tutto d'un fiato una volta aperto, è stato presentato alla Domus Area di Bagnoli del Trigno La stessa autrice non nasconde l'emozione nel dover mettere mano ad una storia così intima e personale Che diventa importante elemento di discussione e confronto su una tematica estremamente attuale Perché mia mamma si è ammalata a 60 anni, quindi si può parlare di Alzheimer giovanile E quindi no, è la pensione, il fatto di sentirsi magari sola, noi figli stiamo tutti fuori Ti attacchi a qualsiasi cosa ma non a quel tipo di malattia Però poi ti rendi conto che più il tempo passa e più iniziamo a perdere dei pezzi E quei pezzi poi alla fine ogni volta che li perdi ti portano a dire forse è E ogni volta che perdi un pezzo la famiglia si deve riequilibrare su quel pezzo che hai perso Il geriatra Mino Dentizia ha ricordato senza mezzi termini la dimensione del fenomeno In Italia ha detto una persona su 60 è alle prese con sintomi di demenza E dell'universo di patologie che hanno questo tipo di manifestazione I dati sono crudi, molto crudi Ogni tre secondi nel mondo c'è un nuovo malato di Alzheimer, un nuovo demente In Italia ogni anno ci sono 80.000 dementi in più Nel Molise 400 dementi in più all'anno In Italia ci sono un milione di persone che soffrono di demenza Quindi una persona ogni 60 Nel Molise ci sono 5.000 persone affetti da sindrome dementigene Presente all'evento la dottoressa Mocari, presidente di AIRALS L'associazione Onlus che a piccoli passi bussa alle porte di ognuno Per ottenere fondi e donazioni da destinare alla ricerca Finanziando progetti e borse di studio per giovani ricercatori italiani Noi abbiamo un sito che è www.airals.it Dove si trovano tutte le informazioni per come donare Attualmente a parte il 5 per 1000 Noi raccogliamo molto anche da piccoli donatori Da chi fa donazioni un po' più importanti Però la gran parte sono donazioni in memoria Se il tempo fosse scandito in emozioni piuttosto che in ore e giorni La sfera affettiva di ognuno forse sarebbe diversa E proprio nelle emozioni anche le famiglie dei malati Che spesso non hanno alternative Nel farsi carico totale della problematica Ritrovano pezzi di memoria e di normalità insieme ai loro cari Un ponte con il passato vuol dire che in ogni momento non senti la tristezza Perché quelle emozioni tu le vai a ritrovare Cioè sono dentro di te e tu sul tuo ponte vai continuamente Al via questa sera a Trivento la quarta edizione di Roccia Morgia La manifestazione organizzata dall'associazione Il Molise di Mezzo Che proseguirà fino al 18 agosto Oltre che nel centro Trignino anche a Pietracupa e a Sant'Angelo Limosano Il programma della giornata inaugurale prevede alle 18 Sulla terrazza del centro polifunzionale La presentazione dell'iniziativa La Presenza Tra gli altri dei promotori e delle autorità locali Alle 21.30 invece sulla scalinata monumentale di San Nicola Ci sarà lo spettacolo anche i molisani nel loro piccolo si incazzano con Enzo Luongo e Pippo Venditti E questa era l'ultima notizia del Tg Diamo ora uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo in edicola oggi con la rassegna stampa Cominciamo dal giornale del Molise.it L'apertura è sull'andamento del Covid Prosegue il trend positivo in Molise Nessun nuovo contagio dai 102 tamponi processati Poi migranti cercano di fuggire dal centro di accoglienza di Campolieto Arrestati dopo aver aggredito alcuni poliziotti Parco nazionale del Matese Federico sollecita Molise e Campania Motociclista muore sulla statale 17 vicino a Pettoranello Su Futuro Molise l'apertura è appunto sulla cronaca Tentano la fuga dalla struttura di accoglienza di Campolieto Arrestati due tunisini dopo una colluttazione con gli agenti di polizia La procura di Campobasso ha svelato l'esistenza di un pericoloso sistema fraudolento Finalizzato al contrabbando di prodotti energetici Siamo alla stampa locale con primo piano In apertura il treno Campobasso Termoli Altra giornata da dimenticare Regione pronta a chiudere dopo il flop di domenica Pure ieri le corse hanno accumulato ritardi L'assessore ai trasporti convoca Trenitalia RFI Giovedì il vertice Pallante se i convogli non arrivano in orario è tutto inutile Rivediamo il piano Caso 1 La politica Silurato dall'Aggiunta Toma Giarrusso vuole lasciare la Regione Per andare a dirigere i lavori pubblici e urbanistica a Campobasso Caso 2 Giovani Democratici Caterina Cerroni è la nuova segretaria nazionale Ma l'avversario ad ombra a Brogli Il giallo conquista i media Nel taglio centrale Fuggono e feriscono due poliziotti Arrestati due tunisini Insieme a due connazionali Si sono allontanati dalla struttura di Campolieto Il terzo è stato rintracciato nel pomeriggio E sanzionato Del quarto ancora nessuna traccia Il bollettino Covid Ultime 24 ore senza contagi né guariti Per gli eventi estivi Il cartellone di Campobasso Il 24 agosto Nicolò Fabi E andiamo alle notizie sportive Lupi, videosorveglianza, lavori terminati Mercato in attacco Spunta l'ex maceratese Cuco a Vasto Girardi Partito e rientro Il ritiro a San Pietro In Valle Crudele, i ragazzi sono in buona forma E passiamo ai quotidiani nazionali Partiamo dal Corriere della Sera Che apre sempre sull'emergenza Covid Test rapidi in aeroporto Speranza breve I sierologici per i turisti Che rientrano da Spagna e Grecia L'emergenza licenziati timori Anche su Croazia e Malta Il dato dei positivi In calo 259 E poi La Bielorussia nel caos Dopo l'accusa di brogli elettorali La candidata dell'opposizione svetlana E con un cognome impronunciabile Tikhanouskaya 37 anni Denuncia brogli in Bielorussia Stati Uniti e Germania Voto compromesso Poi bonus Prime ammissioni L'amarezza del Quirinale I politici locali si difendono Pressing sui nomi dei Deputati Che hanno intascato I 600 euro Nella fase di emergenza Alcuni lo hanno solo Richiesto senza incassarlo Ma insomma Cambia davvero poco Repubblica Lo scandalo dei bonus Ci apre la pagina Mai più ai parlamentari Norma retroattiva del governo Per far restituire i soldi Anche a consiglieri regionali E sindaci delle grandi città Nessuno dei cinque Onorevoli esce allo scoperto I cinque stelle Rinunciate alla privacy Indagini della Lega Tra gli eletti Intanto Virginia Raggi Si ricandida a Roma Dubbi dei grillini Dopo il no Del partito democratico Nel taglio centrale La foto è su Beirut Il premier si arrende Dopo la rivolta E la prima vittoria Dei manifestanti Il voto truffa di Lukashenko Scontri e sangue nelle strade Abbiamo visto anche sul Corriere della Sera Il titolo sulla Bielorussia E poi andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano Ecco i primi nomi Il fatto li chiede tutti Parassiti del bonus Firmate la petizione sul sito L'appello di Travaglio e Padellaro E legano commenti I deputati sospettati Dara e Murelli Non rispondono Caccia agli altri tre E ai duemila politici locali Nostra richiesta degli atti All'Inps Gli elettori Hanno diritto di sapere E si è naturalmente scatenata la caccia A queste persone Il primo piano di avvenire Sulla testata della conferenza episcopale Tunnel anticrisi sotto lo stretto L'apertura La ministra De Micheli Porta il dossiere al governo Usiamo il recovery fund Dal ministero 700 milioni di euro A comuni e regioni Per il trasporto locale In vista della ripresa della scuola Anche qui la notizia del bonus L'Inps si tira fuori Ma Tridico sarà ascoltato Il presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza sociale E poi tre situazioni calde In Libano Crolla il governo Beirut In piazza In Bielorussia Elezioni truffa 3000 In carcere A Hong Kong La Cina arresta Editore e attivista La prima pagina Dell'avvenire Andiamo sul mattino Quotidiano di Napoli Si torna a parlare Di covid Al sud più disoccupati Ma il nord Ha più bonus Cancellato il 6% Dei posti Contro il 3,5% Del settentrione Meloni Nel mezzogiorno Gli sgravi devono diventare Permanenti E poi il virus Torna con i ragazzi De Luca Chiudo i confini 14 contagiati in Campania 7 erano stati in vacanza A Corfu 7 test per altri 40 Dal governatore Pressing Su Conte Quarantena Per chi rientra Dall'estero E il summit A Capri Pronti due colpi Di mercato Su una barca Gattuso Si disseta L'allenatore del Napoli Il patto Dela De Laurenti Gattuso 8 azzurri In partenza Poi un caso Che arriva Dalla Tutto Campano I familiari Lo cercano ovunque Il suo corpo All'obitorio Da un anno Torre del Greco L'incredibile scoperta Dei parenti Era morto Lo stesso giorno E portato Al policlinico La prima Del manifesto Resta Sugli scontri A Beirut Polveriera Libanese E il titolo Centrale Dopo sette mesi Al governo Il premier Diab Si dimette Accusandolo di corruzione La classe politica Che lo ha nominato Avanza l'ipotesi Ariri Simbolo dell'elite Che ha devastato il paese Ma una riforma Del sistema settario Non è all'orizzonte La piazza Non si svuota Più di 200 Le vittime Dell'esplosione E in casa nostra Referendum In Movimento 5 Stelle Pesca lo scandalo Bonus Libero Chiede i nomi Dei profittatori L'Italia dei barboni La chiama Il titolo di apertura Con le tasse Con le tasse Dei cittadini Onesti Il governo Regala Bonus Non solo A quei vergognosi Parlamentari Che hanno preso I 600 euro E dunque Ora di far sapere Chi sono gli incassatori Troppe mance E sussidi Soffocano la carcassa Dell'Inps E noi Va condannato Chi ha approvato Leggi assurde Il pensiero Di Vittorio Feltri E poi Ci sono due notizie Curiose Che riguardano Gli animali Il gatto Degli 007 Britannici Trattato Come un eroe In pensione Dopo 27 topini Uccisi Nella sede Dell'M16 Dell'MI6 E si getta Nel po Salva Fido E Annega L'uomo Qualche volta È il miglior amico Del cane Sono due notizie Di Libero Il tempo Invece Lancia l'allarme Si salvi Chi può La raggi Si ricandita I romani Hanno insistito Così tanto Come facevo A Dighiede No La vignetta Dialogata Sul quotidiano Di Piazza Colonna Il secolo.it Giornale di riferimento Di fratelli d'Italia Stranieri In galera È la Prima Del giornale Gli stranieri Sono il 10% Della popolazione Ma ben il 32 Il set Dei detenuti Record in Sardegna 82% Andiamo a vedere La stampa Che resta Sulla questione Dei furbetti Così li hanno Ormai Etichettati I furghetti Chiedano scusa Manoash A campagne D'odio Intervista A Fico I deputati Devono restituire Subito Il bonus Incassato Bufera Sui parlamentari Dei 600 euro Tridico Pronto a riferire In Parlamento Anche qui La Foto centrale È sulle proteste Della Bielorussia La gioventù tradita Della Bielorussia Dalla dissidenza Alla rivolta A Minsk Proteste Anche in motocicletta Contro la contestata Vittoria Di Lukashenko Alle presidenziali Nel paese Dell'ex Unione Sovietica Del blocco Ex Urs Il giornale Di Belpietro La verità Il primo furbastro Del bonus Tridico Il presidente Dell'Inps Adesso il premier Si precipita A cambiare legge Getta il sasso Dei 5 deputati Che hanno avuto I 600 euro Poi nasconde la mano Non rivelandone L'identità E lasciando che Vengano diffamati Interi partiti Un evidente uso Politico dell'ente Aggravato dal fatto Che se quei soldi Sono finiti Alle persone sbagliate È anche colpa Della norma Della norma Che ha contribuito A fare Secondo l'ex Ministro Dell'interno Minniti La vera bomba Di Beirut Deve ancora Esplodere Ai migranti 60 milioni L'anno Per spese Legali È il Taglio centrale Della verità E poi Sul sole 24 ore Contidiano di Confindustria Banche L'Unione Europea Il Covid Costa 60 miliardi Studio della Goldman Sugli accantonamenti Degli istituti Degli istituti Nel semestre Le rettifiche prudenziali Tre volte superiori A quelle dei primi Sei mesi Del 2019 Chiudiamo La rassegna Come sempre Con le notizie sportive Questa mattina Si parla Naturalmente Dell'Inter Che approda Alle semifinali Dopo aver eliminato Il Bayer Leverkusen Ieri Volo Inter È semifinale Con La Prodezza Di Lukaku Dopo Il gol iniziale Di Barella Inerazzurri Segna un super gol L'attaccante Belga Conte Meritiamoci La finale Lunedì Sfida Tra La vincente Di Shakhtar Basilea E appunto I Nerazzurri Andiamo Nel taglio Basso I sette Uomini d'oro Sono Gli uomini Che fanno Il mercato Cerchiamo di capire Anche Chi sono Bale E Isco Del Real Madrid Giorginio Del Chelsea Pogba Del Manchester United E poi Sancho Abomeyang E Coutinho Sono Gli assi in vetrina Che tutta Europa Si contende Juve Compresa Ma Chiudiamo La rassegna Con Le notizie Che la Gazzetta Riporta Nel cassettone Chi farà Il Pirlo Di Pirlo Il candidato E Arthur Al centrocampo A Juve Della Juve Matuidi Si prepara a dare L'addio Va All'Inter E Invece Il Napoli Ancora Rebus Penali Gattuso Rinvia La firma C'è ancora Questa trattativa Come abbiamo Anche visto Sul Mattino Di Napoli De Laurentiis Vuole 7 milioni Se va via Insomma C'è la solita Diciamo così Trattativa Estenuante Alla quale Ci è abituato Il presidente Del Napoli Vedremo anche In questo caso Come andrà a finire Dopo che Gattuso Ha portato La squadra Azzurra Non solo Alla conquista Della Coppa Contro La Juve Della Coppa Italia Ma insomma Anche a un finale Di stagione Di tutto rispetto E con questa notizia Chiudiamo la rassegna stampa Di oggi Ringraziamo Daniele Ricciuto Che è stato con noi In regia L'appuntamento Con la nostra informazione Come sempre Alle 14 Un saluto Dalla redazione A voi Che ci avete seguito Da casa E l'augurio Di una buona giornata